Macchine, impianti e soluzioni d'avanguardia per gestire al meglio le varie fasi del ciclo produttivo. Sono loro le protagoniste di MIAC 2022, la mostra internazionale dell'industria cartaria che per tre giorni, dal 12 a 14 ottobre, porterà oltre 250 espositori al Polofiere. Un evento da sempre molto attesto dagli addetti ai lavori, che quest'anno assume una rilevanza particolare, dato che il settore, come gli altri, si trova a fare i conti con un vertiginoso aumento dei costi dell'energia, ma anche delle materie prime e dei trasporti. Noi ci stiamo trovando veramente di fronte a una miriade di situazioni che sono difficili e difficilissime da fronteggiare, forse mai come oggi ci siamo trovati di fronte a una situazione come questa. Il settore per ora sta rispondendo abbastanza bene, avete visto i dati che pubblichiamo regolarmente, ci sono dei numeri produttivi in crescita, ci sono numeri abbastanza positivi dal punto di vista del sistema convenzionale che stiamo utilizzando, ma tantissima, grandissima preoccupazione per quanto riguarda il crollo dei consumi, che sicuramente è all'ordine del giorno, i costi che dicevo prima energetici che sono arrivati a un livello insostenibile per le aziende. Un po' hanno fatto fronte diciamo con quelle che sono la storia delle aziende, quindi hanno utilizzato delle proprie risorse per fronteggiare una crisi così, ma non ce la fanno più le aziende, sono in una situazione veramente difficile. Nel primo semestre del 2022 i territori di competenza di Confindustria Toscana Nord hanno fatto registrare un più 1,1% alla produzione della carta e un più 5% a quella della meccanica per la carta rispetto allo stesso periodo del 2021, con l'export cresciuto rispettivamente del 62,2% e del 24,6%. Numeri questi che rischiano però di subire un rallentamento legato alla perdita di competitività sul mercato. Avremo modo di vedere quali sono le aspettative un po' per l'anno prossimo, che al momento vediamo in rallentamento rispetto a quanto avvenuto nel post pandemia. In particolare preoccupa la situazione Europa, evidentemente come già accennava il collega Pieretti per il mondo della carta, che poi sono i nostri clienti, i costi fuori controllo delle materie prime in qualche modo e anche dell'energia fanno sì che diversi investimenti, soprattutto a livello europeo, saranno posticipati come nella migliore delle ipotesi siano cancellati.